il site sta sopra docce libere legion legion in cucina mi ha fatto il drone maestro è in bambina la legge mega drono è è in master e ma tre è tutto close a sinistra e picca ok siamo tutti le scale scale tale bagno buona tanta roba sto buscina pensavo ci fosse qualcuno lì su scale a tutto ufficiale domani raga sto piccando le scale visto da dire che mi sono girate domani domani sulla season b star da non sbaglia mai raga mi faccio schifo portavacca dov'è uscita la manezza twitter vanno ancora sopra che noiosi mamma mia torre piccola libera sopra docce libere dyning libero ricarico l'arma torre grande sopra libera giochini guicina libero mi dispiace zio uno sul ping che ho fatto 90 punti è in bagno vendito il mio è in bagno Hai trovato una bomba! Cosa fai, Marky? Eh, ho sparato a quello che c'era lì, è sopra di... Oh, no! Minchia, hai smirato a valanga, Marky! No, tu! Quello è abbastato il cadavere che è caduto. È l'asta tipo. È caduto il cadavere, io penso fosse uno vivo. Ho sparato solo che ho preso in collaterale. Dijon sopra, in armory! E ne verso armory! Picca finestra! Gigi! Il defuso è bloccato fuori. Piccina libera. Ok. Abbiamo un porciolino dietro qua. Che ti ha bloccato il Twitch, per caso. Allora, se mi coprite, io vado a abbracciare. Vai, chi ha buttato una granata! Io, spin! Sto abbracciando! Ti ha bloccato il Twitch! Sì, tu! Sì, che è il corridoio! Vado la fatta! Ragazzi, conference! Conference! Dietro i bauli uno! Sì, è mute quello! Che è uscito, sta ancora qua, sto scemo! Ce l'ho un altro su scale! Ce l'hai uno? Su scale! Vado a prendere il disinnesco! Inflanta! Vi edo dentro! Se l'avete lasciato, raga! Ah, io ve l'ho detto a inizionare una guardia! Ho detto sei volte! Guarda al plant, eh! Vai! Plantata! Buona! Ok! Mamma mia che attacco, raga! Spaccata! Spaccata! Aperti in due! Mamma mia! E quello lì se la deve esser fatta sotto! Di su! Uscito! Boom! BOOM! Cosa volete fare qualche misuola? Eh, la... No, no, no! No! B! No, B! Qua barrica! A sinistra fai la rotation! Ancora dieci secondi! Ancora cinque secondi! Ancora cinque secondi! Ricarico! Capritemi! Fai tranquillo, dà! Non ti preoccuparsi! Non lo so, Rai! Se ho utilizzato il mini, eh! C'avevo prima mal di guardare! È un drone in main! Come avete visto poi sono la tosse! Mi manca uno Jäger in armoni! Per favore! Adesso mi ha preso l'orecchio, cavolo! Vabbè, di là non arriverà mai nessuno! Torre piccola! E anche i graffini ci vada! Mi sono arrivato troppo d'ardo! Per favore, guardatemi sto drone! Sì, è morto! Ok, vabbè, guardandogli, guardandogli! Drone non sta! Eh, scale! Come viene se hai fatto un altro Gio? Ok, va bene. uno è dentro briccia il muro dice la briccia il muro di a spottameli e dentro lo stanzino stanno per operare una scansione da main, uno main, ha fatto il drone back morto ultimo attaccante rimasto in vita l'ultimo mi sa che in armone si 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 mamma mia che tenuta che round quello cos'è? che si porta a casa mamma mia regà partitozza mamma mia porco due porco mamma mia qua ce l'avevo il cuore in colaco mi stavo a strozzare 8-0 9-2 bella questa questa è bella questa direi che è da canale che è da canale che è da canale